E' mancata un po' di gestione, dovevamo gestire meglio sicuramente per come stavamo vincenti a pochi minuti dalla fine. E' una squadra comunque esperta e ambiziosa, una squadra che vuole portare a casa una vittoria del genere in determinati frangetti. Non può sbagliare, noi in quel caso siamo abbassati troppo, abbiamo avuto troppa paura, qualcosa è mancato. Mi dispiace, c'è rammarico e delusione perché abbiamo buttato via due punti dove potevamo salire ancora di più in classifica con due partite in meno. Però questo è il calcio, quindi dobbiamo subito voltare pagina e tenere dentro l'amarezza di oggi, la rabbia, per poi trasformarla martedì in un'altra partita importante. Ho ricordi belli e ricordi brutti, ci ho lasciato anche un ginocchio, quindi preferisco tenere ricordi belli, però a parte quello c'è rammarico perché avrei preferito vincere la partita oggi. Ho avuto dei problemi di dieci giorni, quindi sono portato dietro un po' di problemi, però ad oggi l'ho quasi superato, quindi cerchiamo di lavorare e recuperare la condizione migliore. Siamo consapevoli di dover affrontare tante partite, però abbiamo una rosa ampia e forte, quindi da quel punto di vista non ci sono problemi. C'è da recriminare alla fine perché siamo stati bravi a recuperarla e ad andare in vantaggio, però nella totalità della gara la Provercelli ha fatto una buona partita. Noi siamo stati non brillanti il primo tempo, abbiamo regalato un tempo, quindi quello è anche un fatto dove dobbiamo migliorare. Sicuramente noi venivamo da tre vittorie e per noi dare continuità di prestazioni e giocare era importante, quindi lo stop è stato un po' forzato, quindi è un po' anche diverso da altre volte, nel senso che ti prepari per giocare e non giochi per due motivazioni diverse. È normale che un po' qualcosina cambia, però infatti abbiamo regalato un tempo e dopo lo schiaffo abbiamo reagito. È quello di lavorare come tutti del resto, tutti lavorano per giocare, per essere protagonisti, ma per aiutare la squadra, perché abbiamo un unico obiettivo, chi gioca di più, chi gioca di meno, ma la squadra ha un unico obiettivo, quindi è quello di far bene, quindi a prescindere da chi possa giocare di più o di meno, queste scelte le fa l'allenatore, ma l'importante è che la squadra remi tutti dalla stessa parte.